Il vero uomo non piange mai, non chiede mai, come diceva anche una pubblicità di qualche anno fa di un dopobarba per l'uomo che non deve chiedere mai, è granitico, tutto d'un pezzo, non mostra le proprie debolezze. Questo è un vero uomo. Questo secondo il concetto di mascolinità tossica, della quale si sente spesso parlare e che ha alla base e la stessa radice della femminilità tossica, della quale si sente parlare un pochino meno. La mascolinità tossica, infatti, è quel concetto per lo più sociale che definisce i veri uomini secondo questi atteggiamenti precisi, come il fatto di non piangere, il fatto di non mostrare debolezze, il fatto di non mostrarsi teneroni. Ma, come detto, della femminilità tossica invece si parla molto meno, anche se ultimamente un pochino la stiamo stoganando. Si tratta di un concetto che si basa sulla cara e vecchia cultura patriarcale, sempre lei. Concetto secondo il quale la vera donna è quella agganciata a quegli stereotipi che adesso andiamo a vedere. Precisazione, tutto questo naturalmente porta ad una visione binaria della faccenda. Sbagliando, perché come ho detto già in un altro video, c'è il maschio, c'è la femmina e ci sono tutte queste sfumature in mezzo, non c'è un estremo e poi l'altro. Molto spesso le donne, infatti, vengono definite ancora oggi il sesso debole. Debole. Ma debole rispetto a chi? Debole rispetto a cosa? C'è però un altro aspetto altrettanto fondamentale, che è quello secondo cui sono le donne stesse, alcune donne, che mettono in atto proprio questa femminilità tossica. Senza polemica, ma qua ne vedo parecchie. La femminilità tossica è quel modo di agire o pensare che porta le persone a piegarsi a quei tratti femminili stereotipati che gli uomini trovano piacevoli. Il più delle volte. In poche parole si tratta di far coincidere le donne in questo canone stereotipato figlio di questa cultura patriarcale. La tossicità di questi atteggiamenti è data dal fatto anche che molte donne, non molte, alcune, usano questi atteggiamenti proprio per ottenere vantaggi o privilegi. Ad esempio, se io mostro in maniera velata, perché esplicitamente penso non si possa fare, non per autocompiacimento, ma per ottenere, catturare attenzione e quindi visualizzazioni o like, Ho messo in alto un meccanismo di questo tipo, consciamente o inconsciamente, femminilità tossica, via!